La mia quadra è strana perché ci sono ragazze strane nel senso che è bella perché è proprio diversa. Sono ragazze che sono sorde con le protesi, sono ragazze con l'impianto, sono ragazze che non portano nessun augilio, sono ragazze che segnano, sono ragazze bilingue, sono ragazze che parlano, insomma è un misto, sono sordastre, ci sono ragazze sorde profonde, ragazze che segnalano abbastanza bene. Insomma è un misto ed è bello perché comunque non c'è differenza. In campo quando si gioca, si gioca tutte senza protesi per essere tutte uguali. Cambia solo la comunicazione, però ad esempio quando siamo in tavola abbiamo deciso prima, ancora prima la quadra si divideva in ragazze che parlavano e ragazze insegnanti e mi trovavo sempre in mezzo facendo un bilingue. In questo modo non c'era possibilità di fare l'integrazione. Quindi abbiamo trovato un sistema, per esempio ci disponevamo attorno al tavolo da là, quella che si chiama per un ordine alfabetico. Quindi ci disponevamo, quindi io ragazza insegnante mi trovavo davanti con una ragazza che era tutta. E adesso cosa facciamo? Quindi quella che segnava si forzava a parlare e quella che non segnava si forzava a segnare. E quindi è iniziata proprio un'integrazione tra Suvordi ed ha servito tantissima altra squadra. Grazie. 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 Grazie.